RYOBI Aspect LS deriva dal top di gamma Honor, di cui mantiene l'affidabilità e la robustezza meccanica. Monta 5 cuscinetti più 1. Realizzato in leggero policarbonato misto a carbonio, ideale per gli amanti del surfcasting e delle altre tecniche di pesca a fondo. Aspect LS, tecnologia RYOBI e competenza Tubertini. Un binomio vincente. Distribuito da Tubertini. Grazie a tutti.